Bene amici, confermato per questo 2023, con novità dal 1 marzo, il bonus sostegno al reddito disoccupati SAR, da 780 a 1000€, cumulabile, compatibile con la NASPI, RDC, eccetera. E a proposito di RDC, c'è un grosso problema di congelamento. Insomma, vi spiego tutto dopo la sigla e alla fine c'è anche un bel sondaggione, quindi, insomma, seguitemi. Per bene, io sono Mr. Lul, partiamo! Dunque, SAR 2023, bonus sostegno al reddito per disoccupati. Attenti, disoccupati ex somministrati, adesso vi dico per bene i requisiti. Bisogna essere, appunto, disoccupati da almeno 45 giorni e aver avuto nei 12 mesi precedenti questa disoccupazione, contratti di lavoro somministrato, quindi con le agenzie per il lavoro, Manpower, G-Group, Umana, eccetera. Vediamo gli importi che sono erogati da Formatemp. Formatemp erogherà, riconoscerà, 1000 euro lordi a chi abbia lavorato in somministrazione almeno 110 giornate nell'arco dei 12 mesi precedenti, appunto la scadenza dell'ultimo contratto, oppure 780 euro con 90 giornate maturate, diciamo, di lavoro sempre nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Attenti perché in questo 2023 i beneficiari potenziali di questo bonus si allargano visto che il governo sta coinvolgendo e andrà a coinvolgere le agenzie per il lavoro proprio nell'opera di ricollocare i percettori di RDC occupabili che andranno a perdere la ricarica dopo 7 mesi. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento attraverso la piattaforma FT Web o tramite sindacati di categoria. Ci sono però novità dal primo di marzo, il pagamento infatti potrà avvenire da quel momento in avanti soltanto tramite bonifico bancario, mentre i ricorsi al comitato Formatemp potranno avvenire soltanto tramite PEC. Vi metto i link a tutto per ulteriori approfondimenti scritti in descrizione. Ora veniamo al reddito di cittadinanza, congelamento con brividi anche in vista delle ricariche di fine mese. RDC infatti sapete questo mese sarà ricalcolato con il nuovo ISEE e sarà evidentemente congelato a chi avesse presentato questo ISEE in ritardo, va bene. Ci sono però già stati casi a metà mese di ricariche congelate anche a chi l'ISEE l'abbia presentato per tempo e correttamente. È stata IMS che non è stata in grado di agganciarlo tempestivamente. Congelato ancora e misteriosamente a molte rinnovator il pagamento del 15, nonostante lavorazione corretta avuta il 13. In pratica manca la disposizione a poste. Congelati poi per tantissimi anche gli assegni unici figli di competenza dicembre su RDC che ancora non arrivano e congelato il decretone RDC Calderone che ce l'aveva promesso per la metà di gennaio, quindi per oltre un mese fa congelate di conseguenza anche tutte le circolari tanto attese attuative dell'Inps, ad esempio per dirci qualcosa sulla quota B dell'affitto pagata direttamente al proprietario. Dunque, sondaggione, voto alla ministra Calderone finora? Beh, fatemelo sapere qui sotto. Spero che la rassegna sia stata utile, se avete dubbi sul bonus vi aspetto qui sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima, un abbraccio, mi raccomando un bel like e un saluto di nuovo da Mr. Lula.